La pausa del campionato non significa riposo per il Genoa. Cesare Prandelli sta utilizzando questi giorni per lavorare senza i nazionali. Le buone notizie per il tecnico sono già arrivate dall'amichevole con l'Imperia. Ma Zitelli è tornato a pieno regime e potrà rivelarsi un'arma in più nel finale di campionato. Dopo mesi travagliati, anche Andrea Favilli è pronto a ritagliarsi uno spazio all'interno della rosa. Una punta vera, ciò che è mancato negli ultimi mesi, che potrebbe regalare nuove alternative a Prandelli in attacco. Sanabria dopo un impatto devastante al momento del suo arrivo, ha subito un netto calo in termini realizzativi. L'ultima rete del paraguaiano risale al 17 febbraio. Per ritrovare l'ultimo gol di Coame, invece, bisogna tornare indietro al 28 gennaio. Le reti degli attaccanti sono mancate nell'ultimo mese. Prandelli sta lavorando proprio su questo aspetto e continua a chiedere ai suoi giocatori movimenti e tattiche differenti. Il tecnico Prandelli aveva parlato di questo aspetto a Telenord. Il giocatore che va sul primo palo magari fuori tempo, porta via un avversario e quando dici che devi attaccare l'aria con più Giocatori è questo che devi fare, l'insegnamento è cosa che mi affascina ma ci vuole tempo, io avevo Gilardino che aveva questa grande capacità di arrivare sempre prima sulla palla, altri giocatori no. Ma a volte il tempo e il lavoro quotidiano ti permette di far crescere il giocatore, il tecnico ha a disposizione adesso l'intero parco attaccanti e favilli con l'inossidabile Pandeve potrebbero rappresentare alternative importanti. Con la salvezza ormai in tasca il tecnico potrà permettersi anche alcuni esperimenti nel finale di stagione.